letture tratte dal diario di anna frank venerdì ventiquattro dicembre cara kitty credimi quando te ne stai rinchiuso per un anno e mezzo a volte sei proprio stufo lasciamo perdere per un momento la giustizia e l'ingratitudine i sentimenti non si possono mettere da parte andare in bicicletta ballare fischiettare osservare il mondo sentirmi giovane sapere di essere libera ecco che cosa vorrei eppure non posso darlo a vedere perché pensa un po' se tutte e otto cominciassimo a lamentarci e diventassimo insofferenti dove andremo a finire a volte penso qualcuno qui dentro mi capirà saprà considerarmi solo per la ragazzina che sono che ha tanto bisogno di divertirsi non lo so e non potrei nemmeno parlarne con qualcuno perché sono sicura che mi metterei a piangere il pianto alleggerisce quando si ha una persona a cui piangere sulla spalla sabato 12 febbraio 1944 cara kitty splende il sole il cielo è azzurro intenso soffia un venticello meraviglioso e vorrei tanto vorrei tutto parlare essere libera avere amici essere sola vorrei tanto vorrei tanto piangere mi sembra di scoppiare e so che se piangessi starei meglio ma non posso farlo sono inquieta passo da una stanza all'altra respiro aria da una fessura di una finestra chiusa mi sento battere il cuore come se dicesse esaudisci finalmente il mio desiderio penso che sia la primavera avverto il risveglio lo sento nel corpo nell'anima devo sforzarmi di agire in modo normale sono totalmente confusa non so cosa leggere cosa scrivere cosa fare so soltanto che vorrei che vorrei tua Anna mercoledì 23 febbraio 1944 cara Kitty da ieri il tempo è bellissimo e mi sento molto allegra ogni mattina vado in soffitta per togliermi dai polmoni l'aria viziata della stanza questa mattina quando sono andata in soffitta Peter stava mettendo in ordine ha smesso quasi subito e quando mi sono andata a sedere nel mio posticino preferito sul pavimento è venuto anche lui ci siamo messi a guardare insieme il cielo azzurro l'epocastano spoglio sui cui i rami brillavano minuscole goccioline i gabbiani e gli altri uccelli che volando veloci sembravano d'argento tutto questo ci commuoveva talmente che non riuscivamo più a parlare finché esiste tutto questo ho pensato e io posso vederlo questo sole e questo cielo senza una nuvola non posso sentirmi triste per tutti quelli che hanno paura che si sentono soli o infelici il sistema migliore è certamente uscire andare in un posto in cui si è completamente soli soli col cielo con la natura e con Dio perché soltanto allora solo allora si avverte che tutto è come deve essere e che Dio vuole che gli uomini siano felici nella natura semplice ma bella finché esiste tutto questo ed esisterà sempre io lo so che in qualsiasi circostanza può esserci consolazione e sono fermamente convinta che la natura può cancellare molte miserie spero tanto che non passi molto tempo prima che io possa condividere questa splendida sensazione di gioia con qualcuno che la senta come me la ricchezza la bellezza tutto si può perdere ma la gioia che hai nel cuore può soltanto essere offuscata per tutta la vita tornerà a renderti felice prova prova una volta che ti senti solo o infelice o di cattivo umore prova a guardare fuori quando il tempo è così bello e non le case o i tetti ma il cielo e finché potrai guardare il cielo senza timori saprai di essere puro dentro e che tornerai ad essere felice tua Anna giovedì 6 luglio 1944 le persone religiose possono essere contente perché non a tutti è dato di credere nelle cose ultraterrene non c'è neanche bisogno di temere punizioni dopo la morte il purgatorio il purgatorio l'inferno il paradiso sono cose che molti non possono accettare però la religione poco importa quale tiene la gente sulla retta via non è il timore di Dio ma il fatto di conservare alti il proprio onore e la propria coscienza quanto sarebbero belli e buoni tutti se ogni sera prima di addormentarsi ripensassero agli eventi della giornata e stabilissero con precisione cosa hanno fatto di bene e di male involontariamente allora ogni giorno cerchi di migliorarti ed è facile col tempo ottenere i risultati questo rimediuccio è alla portata di tutti non costa niente ed è sicuramente molto utile perché chi non lo sa deve impararlo e provare la coscienza tranquilla rende forti sabato 15 luglio 1944 ecco cos'è difficile in quest'epoca gli ideali i sogni e le belle aspettative non fanno neppure in tempo a nascere che già vengono colpiti e completamente devastati dalla realtà più crudele è molto strano che io non abbia abbandonato tutti i miei sogni perché sembrano assurdi e irrealizzabili invece io me li tengo stretti nonostante tutto perché credo ancora nell'intima bontà dell'uomo mi è proprio impossibile costruire tutto sulla base della morte della miseria della confusione vedo che il mondo lentamente si trasforma in un deserto sento sempre più forte il rombo che si avvicina che ucciderà anche noi sono partecipe del dolore di milioni di persone eppure quando guardo il cielo penso che tutto tornerà a volgersi al bene e che anche questa durezza spietata finirà e che nel mondo torneranno la tranquillità e la pace nel frattempo devo conservare alti i miei ideali che forse nei tempi a venire si potranno ancora realizzare tua Anna Frank grazie a tutti Grazie a tutti.